rosa manzo da oslo india pater patria privazione sono le parole chiavi della mia vita e da quando lo so usare che sul computer digito compulsivamente rui goa rave dicembre 1990 spiaggia di calangute chiama mi raccomando certo mamma un borsone pieno di vestiti leggeri un po di soldi dell'eredità dei nonni gli altri sono in quote societarie con il divieto di venderle fino al compimento di 40 anni appuntamento con un detective privato l'indomani dell'arrivo a goa è una stanza in affitto per tre mesi il detective patil e uno in gamba basta la pora roe sbiadita e in 224 riesce a trovarmi un cognome figueredo rui figueredo arrotolo il cognome come un mantra le formule magiche indiane sono molto potenti possono bruciarti la lingua eppure per la prima volta non mi autocombustiono nessun attacco di panico nemmeno in aereo che di solito detesto per via degli spazi ristretti le mie 40 scatole di tavo orson in tons e come faccio a incontrarlo è un artista abbastanza noto a livello locale potresti fingerti una giornalista interessata alle sue opere posso fissarti un incontro panico 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 no 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 non posso impasticcarmi salterebbe l'incontro voglio fare una bella figura cazzo una canna allora no niente canna un bicchiere di vino ma che schifo sto vino indiano e cosa mi metto trucco senza capelli sciolte raccolti vestito indiano no cazzo 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 chiamo sandra sarà sveglia qui siamo in avanti di quattro ore e mezzo non riesco a dormire non riesco a connettere non riesco a respirare respira mina fai tre respiri di pancia se non te la senti rimanda l'appuntamento di qualche giorno ho visto il suo profilo su facebook figo tuo padre proprio un gran figo vero sembra anche simpatico no simpaticissimo non c'è di che preoccuparsi tu lo conosci già lui sarà già le domande che vuoi farli e tu sei già le sue risposte scorrete nelle vene l'uno dell'altra da mille vite siete indiani cazzo che carina la mia amica e se non riuscissi a fargli la domanda bomba beh non occorre affrontarlo subito prima entra in confidenza scopri le cose piano piano però scatta tante foto mi raccomando poi di che devi tornare un'altra volta per concludere l'intervista ok tavolo non tavolo non faccio una doccia calda sono 40 gradi fredda allora vedrai che entra tutto bene parola di sandrina hello namaste very nice to meet you le parole escono come talco fresco anche se in verità sono sudore misto aceto very nice to meet you mi fissa come se avesse visto un fantasma e mi invita a sedere in veranda mentre va a prepararci un tè abita da solo in una casa carina a tutte in legno stile coloniale nel centro di panim in una zona di artisti un po trasandata abituata a soggiorno studio a oxford trovo un po difficile seguire il suo accento inglese faccio perseguirlo in cucina dare una mano ma solcando l'ingresso del soggiorno degli anni blocco sto sognando giganteschi punti interrogativi mi escono dagli occhi e lo sguardo si fa refrattario le pareti verde smeraldo sono adorne di decine e decine di quadri dai colori sgargianti simile gauguin ritratti su ritratti di me ma come lui si gira lentamente e mi vede osservarli in silenzio incredibile no sussurra credo di essere tua figlia e un'onda di panico si sussegue all'altra si sommontano fanno schiuma fino ad annullarsi per qualche strana combinazione tra aria acqua desiderio e paura mina cretina mina stupidina dovevi dirglielo dopo molto dopo quando era entrata in confidenza così lo spaventi e dalla sua risposta dipende il equilibrio esistenziale lo sai vero mi sembra altamente probabile dice lui sei tu indica i quadri sei sempre solo tu ho fatto tante cazzate in vita mia cercato lo sballo chimico e vegetale solido e liquido e carnale ma non ho mai provato l'estasi che provo ora non credo in dio negli angeli in tutte quelle puttanate che ti frenano da praticare un aborto ma credo che ho vissuto quello che i mistici chiamano l'estasi